E il tema è la produttività o meglio ancora gli strumenti di produttività. Perché questo? Perché ritengo che al giorno d'oggi con tutta una serie di incombenze che qualsiasi imprenditore o professionista ha nella sua giornata sia basilare, ripeto basilare, riuscire a avere massima efficienza, massima produttività e massima focalizzazione. Per fare tutto ciò io ho individuato 22 strumenti che vado ad elencarvi e a commentare oggi in questa puntata. Sono strumenti che io ho testato e sono strumenti che hanno modificato profondamente il mio modo di lavorare. L'hanno migliorato, tantissime persone che lavorano con me mi hanno manifestato questa loro avvertenza che io ho aumentato il ritmo, ho aumentato la produttività. Questo per evitare che ci siano giornate in cui magari facciamo un sacco di cose e che poi queste cose non siano nemmeno una che ci portino perlomeno vicino ai nostri obiettivi vicino alla nostra necessità di vita. Perché ricordatevi che noi dobbiamo realizzare il nostro piano di vita, dobbiamo realizzare il nostro successo, dobbiamo realizzare il nostro copione, dobbiamo realizzare le nostre attività operative che ci portano dritte a cogliere gli obiettivi, ruolo per ruolo. Ricordatevi che è una sequenza molto molto importante e da qua non si scappa. Per fortuna la tecnologia oggi ci viene incontro. Vado a riparlarvi del principe di questi strumenti qua in assoluto, perché questo di cui vi parlo oggi è il principe in assoluto di questi strumenti ed è la app super conosciuta Evernote, quella con la testa dell'elefantino. Questa app secondo quello che penso io è un mega classificatore dove ciascuno di noi sul proprio smartphone sul proprio tablet, sul proprio pc, quindi in scrivania, in macchina, dappertutto, ovunque, ha tutto il materiale che gli serve per poter lavorare, consultare, studiare, analizzare, andare a tornare su questi argomenti qua. Ed è straordinario che ci sia, io lo paragono metaforicamente a quei vecchi classificatori in ferro, vi ricordate quelli che si tirava lo sportello in ferro. Ecco, questi qua, questo Evernote qua, in quelle cartelle che chiama taccuini e che si possono mettere insieme formando delle pile, sostanzialmente, queste cartelle qua, questi taccuini qua, possono contenere di tutto. Possono contenere fogli del pacchetto Office, Word, Excel e quello che vuoi, PowerPoint, o quello che volete, ma possono contenere anche fotografie, ma possono contenere anche file audio, ma possono contenere anche appunto i vostri scritti a mano, ma possono contenere anche pagine web, ma possono contenere anche pagine giornali, insomma possono contenere tutto quanto quello che ha necessità. C'è la possibilità di avere 250 taccuini. Quindi voi, riguardante un determinato argomento, buttate dentro tutto quanto lì. Io registro spesso magari delle conversazioni, registro delle riunioni, registro qualsiasi cosa che mi interessi e la metto dentro lì. Vado su quel taccuino e quel taccuino lì mi dà esattamente subito tutta la sequenza e me la dà in profondità quando voglio io. Faccio un esempio ben chiaro. Sto scrivendo il mio libro Imprenditori Generosi, che spero prima o dopo veda la luce, questi imprenditori piccoli, medi o comunque imprenditori sconosciuti al grande pubblico, che hanno donato moltissimo e ogni volta che trovo un articolo di giornale nel web, ho messo il mio Google Alert, di cui poi vi parlerò, vado all'articolo, mi faccio il ritaglio dell'articolo, ho più di 200 casi adesso e vado dentro sul taccuino Imprenditori Generosi e praticamente ho tutto quanto lì a disposizione. Quindi veramente tanta roba, addirittura si può anche con l'e-pen di Apple, praticamente, i Apple, mi ricordo bene come si chiama, con quella penna si può andare a intervenire su quelle che sono i pdf, quindi anche lì un pdf con tutti i vostri commenti. I taccuini si possono condividere con chi volete, nei taccuini mettete le note, le note si possono condividere, si possono condividere i taccuini, ogni volta che voi modificate o una nota o un taccuino condiviso, le persone con le quali lo avete condiviso riceveranno notifica di questo, straordinario, veramente straordinario, veramente bello, veramente eccezionale e devo dire che più lo approfondisco e più mi interesso perché è molto importante. Il primo, il secondo, che poi è diventato il principale perché lo sto scoprendo quest'estate, l'ho scoperto ancora di più, è Todoiste. Todoiste ormai 10 milioni nel mondo, lo condividono, è un programma che ha tre sessioni principali in box oggi e prossimi sette giorni e poi c'è una serie di progetti, versione premium perché la versione base non vi non vi dà nulla diciamo, nella versione premium avete questo discorso qua, poi avete la possibilità di avere 200 progetti e poi avete la possibilità di avere ulteriormente filtri, etichette e priorità filtri, etichette e priorità che io non li usavo come dovevo e invece insomma li utilizzo adesso in maniera veramente eccezionale. Vado a sincronizzare il Todoist con Google Calendar, vado a sincronizzarlo con altri app che io oppure con l'email praticamente, con la gmail e ogni mail me la archivio dentro il progetto, vado a 200 sono i limiti dei progetti qua, quindi Todoiste sta appassionandomi in maniera molto particolare, molto veloce, tutte le liste che tu hai, qualsiasi cosa, scarica, 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 scarica dentro lì e la tua mente diventa libera, eccezionale perché io quando lo accendo, tac, vado dentro, vedete, vado dentro qua, questa è la app di Todoist, ok, che adesso eccola qua, che io ce l'ho in forma, adesso però è la sua forma reale e questo è il tema rosso che c'è praticamente, no? E questo è la vostra, diciamo, cosa. L'inbox che vi dicevo è questo, sono queste tre qua, le vedete, ok? E poi sotto tutti quanti i progetti che io scorro. Qua dentro ogni volta, ad esempio sull'oggi, io butto dentro tutte quante le cose che devo fare oggi, che devo fare fra un'ora, che devo fare il mattino, che devo fare il pomeriggio, che devo fare domani, che devo fare ogni lunedì, che devo fare ogni tre mesi, che devo fare una sequenza, una sequenzialità pazzesca. Ovvio, sia Evernote che il discorso di Todoist hanno necessità di essere capiti e compresi da voi. Non dovete pensare che siano cose che vi balzano così e poi vi risolvano tutti i problemi. Non è così per nessuna delle cose. Non è così per nessuna delle cose. Ok? Quindi dovete lavorarci dietro sia a Todoist, il programma invece di... eccolo qua, l'elefantino, eccolo qua, che lo vedete in mezzo, vedete l'elefantino lì? Lo vedete? Eccolo lì, questo è l'elefantino. Dovete avere questa accortezza di lavorarci dietro. C'è il blog italiano sia di Evernote che di Todoist, di tutti e due. C'è questo blog italiano dove dei team stanno lavorando e stanno dandovi sempre più informazioni, stanno dandovi sempre di più novità e sono veramente molto, molto, molto importanti le novità ogni volta. C'è anche una versione business del Todoist che io non ho ancora utilizzato, ma si può condividere con parecchie altre persone di lavoro e anche questo secondo me è interessante. Questi due sono sostanzialmente i due strumenti di produttività principe che insomma mi danno un vantaggio competitivo perché iPad, PC e cellulare tutto quanto dentro lì. Straordinario, eccezionale, io ho oggi come oggi 22 fronti o chiamiamoli progetti, di cui 8 sono lavorativi, 6 sono di carattere immobiliare e poi gli altri di business diversificati, non profit e altro. Questi 22 avranno diciamo 20 attività ciascuno da sviluppare, ok? Sono 400 fronti dove tu sei impegnato e che devi rendere conto. Se non avessi questi due strumenti non riuscirei a gestire assolutamente. Il terzo strumento, la terza app è l'app che mi ha dato il mio amico Matteo Salvo, iMindMap. Sono delle mappe, mentali, il padre di questo è Tony Buzeng, andate a vederlo, poi ce ne sono altre anche, non è che iMindMap sia l'unica, però io mi trovo bene con questo perché ha una forma grafica. Allora io ho due mappe importanti che sono una la visione complessiva e una il lavoro, parte professionale, una la visione complessiva e una al lavoro. E queste due parti qua sostanzialmente sono parti veramente importanti perché io ho fatto mettere una lastra in vetro su ciascuna delle scrivanie nei vari uffici dove io vado e me le metto vicino al pc e poi le guardo. Ok? Quindi direi che ho tutto sotto il raggio visivo come consiglio a tutti quanti perché è straordinariamente importante che voi abbiate sotto il vostro raggio visivo queste cose. Molto molto importante. Quarto strumento, sempre uno strumento di produttività importante, è il Skype, il programma Ever di Skype. Naturalmente Skype è di per sé stesso perché vi permette di evitare grandi trasferimenti, cioè obbligate i vostri controparti a parlare quanto più possibile su Skype. La gente magari restia perché non ha l'account, perché questo, perché quello, ma è importante che voi lo facciate perché, insomma, è determinante sta roba. È molto importante che facciate questo ragionamento. Ever è un programma che vi permette di fare le interviste doppie. Ok? Se voi dovete pubblicare, se voi dovete interagire con i social in generale, avete la possibilità di registrare delle interviste doppie e Skype più Ever, Ever, insomma, vi dà un bel aiuto. Vi dà un bel aiuto perché è molto molto importante. Ok? Altra cosa, invece, in forma cartacea, ed è il quinto strumento, è la lista dei vostri eventi a 4-6 mesi. La lista dei vostri eventi iscritta a 4-6 mesi? Voi mi direte, sì, ma ce l'ho già nel Google Calendar. Certo, tutti ce l'hanno, ma il colpo d'occhio non ce l'hai. Lì io ho in due fogli tutti gli appuntamenti a 6 mesi e ce li ho tutti lì. Se no dovrei guardare, dovrei scorrere il Google Calendar. Sarebbe un po' più complicato, insomma, no? Quindi questa lista qua è molto molto importante. Punto numero 6 è un punto che la gente pensa che sia uno stato symbol ancora in Italia, ma non è così perché per un professionista o per un imprenditore che si sposta molto è uno strumento di lavoro, l'autista. Io sono di 12 anni, 13 anni ormai che uso questo strumento e devo dire che è uno strumento straordinario perché è uno strumento che ti permette di lavorare quando tu ti sposti, ok? Quando tu hai necessità di lavorare sei già sul posto di lavoro, ok? Ed è una cosa determinante perché oggi come oggi con tutte le persone che si trovano nel mercato, trovare qualcuno che ti guidi la macchina anche a fasce orarie stabilite non è difficile. E poi faccio sempre anche, se volete fare una questione economica, fate il conto di cosa costate voi all'ora e fate il conto di cosa paghereste una persona. Ma oltre a questo c'è anche una questione che si chiama pericolo. Oggi col telefonino è abbastanza elevata, voglio dire, no? E quindi io direi che l'autista anche a giorni particolari della settimana oppure a fasce orarie, insomma, trovate delle persone pensionati o comunque persone che si accontentano, no? Sostanzialmente, voi guidate la macchina, voi lavorate e vi portano dove dovete andare. Evitate il problema del parcheggio, lo stress, lo stress, il rischio, insomma, tutta un sacco di cose che questa roba qua per un professionista o un imprenditore non è assolutamente uno stato simbolo ma è uno strumento di lavoro. Il settimo strumento è uno strumento che adotto da quando mi sono spostato al nord-est. Milano c'è un traffico infernale e è lo sfasamento delle fasce di orario di andata e ritorno della vostra giornata lavorativa. Questo sfasamento qua vi permette, io mi alzo al mattino, parto alle sei, un quarto da casa e arrivo alle otto, quando gli altri, sette e mezza, quando gli altri iniziano a mettersi in macchina. Se io partissi come partono loro, arriverei alle dieci e mezza. Quindi comincerei la mia giornata tre ore dopo, sostanzialmente. Quando ti sei abituato ad alzarti presto al mattino non hai grandi problemi da un punto di vista di riposo perché il tuo orologio biologico ti viene incontro e poi insomma ti riascolti la puntata riguardo alla resilienza e alla capacità di essere più resiliente, ti dice come io sono arrivato a dormire cinque ore a notte senza grosse problematiche. Lo sfasamento è importante perché è una cosa che ti aiuta molto insomma. L'ottavo strumento è il trovare, cioè l'imprenditore professionista ha un sacco di cose, pratiche, commissioni che lui praticamente deve fare, le bollette, gli uffici, i cambi di utenza, i bolli, le assicurazioni, la posta, il lavaggio della macchina, il discorso del bancomat, il discorso, tutta una serie di cose che l'imprenditore vuole fare ma ci sono persone che con 50 euro ti fanno 100 euro al mese, ti fanno tutte queste commissioni senza problemi, te le fanno senza problemi. Questo è l'ottavo strumento che voi potete fare, ok? Ottavo strumento ed è uno strumento eccezionale perché voi vi concentrate sulle vostre cose. Io ho quattro persone che ruotano intorno a me, un autista, due assistenti e poi una domestica e ciascuno di loro ha magari 5, 7, 8, 10 cose da fare, se io non le delegassi sarei full, full sarei e io non voglio essere full, voglio concentrarmi sulle cose che sono importanti per me. Per farlo ho necessità di delegare queste cose qua. Quindi il punto numero 8, strumento numero 8 è delegare determinate piccole commissioni alle persone e pagare loro perché le facciano. Il punto numero 9 è il filtro di chiamate telefoniche. Dovete combattere anche queste perché non dovete gettarvi nella risposta immediata. Non fatevi trascinare da questo ragionamento che è un ragionamento che poi mette ansia e poi sempre di più vi pone in una questione di rincorrere l'operatività e alla fine arrivate a sera che avete risposto a 100.000 telefonate di cui magari il 10% erano telefonate importanti. Filtri alle chiamate. Se non potete avere assistenti o se non ce l'avete, ci sono delle segreterie che costano 50 euro al mese, queste segreterie, e vi filtrano le chiamate senza problemi. Le ricevono loro e poi vi danno il report. Bellissimo. Sono delle segreterie oggi che fanno esattamente questo. Quindi poi voi decidete quando rifare queste chiamate. Il punto numero 10 è fare queste chiamate, ok? Fare queste chiamate a fasce orarie. Io, ad esempio, ci sono due fasce orarie giornaliere in cui colloco le chiamate che devo fare. 6.30 al mattino 8, 6.30 9, 19.21 alla sera. Sono i momenti di spostamento in macchina, però sono 4-5 ore che do di tempo alle persone che desiderano parlare con me. Ed è una cosa importante, perché loro sanno se è 30, se è 40, se è 50, 7, 7, 10, 7, 1 quarto. Vi dimostrate efficienti. Loro, una volta persa la telefonata, hanno perso lo slot che gli avete dato, voglio dire, e vi organizzate. E sapete che quell'ora e mezza lì è dedicata ai pagamenti, alle telefonate a fasce orarie, sostanzialmente. E anche questo è molto molto importante. Lo strumento numero 11 è lo strumento dei social media. Social media, fasce orarie. Una fasce orarie al mattino, una fasce orarie a metà giornata, una fasce orarie alla sera. Mezz'ora, mezz'ora, mezz'ora potrebbe essere. Un'ora e mezza è già tantissimo. Solo fasce orarie. Se no, continuate a controllare gli stati, continuate a controllare le cose e poi alla fine non fate nulla. Quindi social media a fasce orarie, prestabilite, prestabilite. Il numero 12 è più che uno strumento, è un consiglio. Il consiglio è quello di andarvi a guardare il quadrante del tempo di Stephen Covey. Chi è Stephen Covey? È il più grande studioso dell'efficienza manageriale. I sette pilastri del successo è il più grande libro che lui ha scritto e secondo me è uno dei più grandi, veramente, libri in assoluto. E lì può... Quel quadrante lì vi dà l'idea un po' di tutta quanta l'essenza che io vi ho dato adesso. Questi che io vi do oggi, in questa puntata ventottesima di Gascaffè, è l'essenza di questa roba qua. Ma il quadrante Covey è molto importante, molto determinante. Numero 13 è la composizione di list broadcast quando dovete comunicare con WhatsApp. Lo fanno in pochi, ma tutti noi abbiamo il gruppo della palestra, il gruppo degli amici, il gruppo dei colleghi di lavoro, il gruppo delle passioni. Cioè, ognuno ha queste cose qua. Se invece di fare i gruppi, che poi tutti rispondono, tutti devono leggere, devi silenziare le chat e quant'altro, fai list broadcast. Fai list broadcast, quando devi comunicare una cosa la comunichi a tutti. E riesci anche a profilarti. Io ho 1500 persone sui 12.000 contatti miei telefonici, 1500 persone, professionisti, imprenditori, quando devo mandare un messaggio di un certo tipo, le mando solo a loro. E ricevo anche le risposte di un certo tipo, voglio dire. Quindi, list broadcast è molto importante perché sono delle cose che sono semplici, ma vi fanno risparmiare un sacco di tempo. Il punto numero 14 è quello di schedulare gli impegni in base alle priorità. Non è sempre così, eh? Non è sempre così. Non è che le persone facciano gli impegni in base alle priorità. Li fanno in base alla voglia di farli. Oppure in base a altre cose. Devono essere schedulati in base alle priorità e in base alla quantità di energia che avete in quel momento lì. Importantissimo questo. Fare le attività in base alla quantità di energia. Lo strumento numero 15 è un po' il mio strumento che vi ho spiegato un sacco di volte. Basta chiacchiere. Quindi la suddivisione della vostra vita in aree chiave, successivamente in ruoli, successivamente in obiettivi, successivamente in attività operative. E questo è un altro... Voi dovete realizzare questo paninsesto qua. Direi che questa progettualità qua la metterei allo zero. Ok? Metterei zero, basta chiacchiere. Uno Evernote, due Todoist, tre Imanemap, quattro Skype Ever, che sono un po' le cose principali da questo punto di vista qua. Sedici è la dettatura dei Whatsapp. Quanto tempo ciascuno di noi perde per scrivere messaggi? Minuti, minuti, decine di minuti, ore vorrei dire. Allora, non è facile perché la dettatura va fatta in una certa maniera, va come consigli, devi concentrarti su questo. Ma una volta che hai imparato, io faccio delle dettature oggi straordinarie, dopo mesi e mesi di allenamento, e devo dire che rispondo in maniera immediata. E quindi è determinante questa imparatura. Il 17 è sempre un piccolo accorgimento che sono le sostituzioni di testo, che è un'opzione che il vostro Android, il vostro Apple ha sicuramente, nelle risposte veloci. E quindi rispondere in maniera veloce con una sostituzione di testo, ad esempio, richiamami urgentemente, se faccio RU scatta tutta quanto una sostituzione di testo in cui io dico a questa persona devo comunicarti qualcosa di importante, gentilmente richiamami quanto prima è possibile, ti ringrazio anticipatamente per questa chiamata che mi farai. Se devo scrivere tutto questo, scrivo RU e un altro. E quindi qua, però, bisogna scegliere anche lì delle abbreviazioni, sostituzioni di testo e metterle dentro. E anche questo è molto importante. 18 è la rubricazione corretta. Quante rubriche ho visto che sono rubriche disastrate, persone che chiamano Mimmo, Nanni, Piero, poi trovano 4 Pieri, 4 Nanni, 4 Mimmo. La rubricazione è nome, il cognome, l'azienda e chi ve l'ha presentata quella persona o dove l'avete conosciuta quella persona o dove l'avete incontrata quella persona. Punto. Dovete fare questo discorso perché questo è l'unico discorso che è interessante per voi. Al punto 19, come strumenti di produttività, c'è la cancellazione di molte app che non servono. Ogni tanto fate una review di quelle che sono le app perché abbiamo tante app e tante volte le scarichiamo per voglia ma non ci servono. Bisogna cancellarle perché occupano comunque spazio nella nostra raggio visivo e dobbiamo eliminarle. Stessa roba ed è il punto 20, l'annullamento di appuntamenti inutili. Ok? È determinante questo discorso qua perché tante volte degli appuntamenti sono periodici e li mettiamo lì e non andiamo mai a retificarli. Invece bisogna retificarli perché quelli inutili ogni tanto vanno eliminati. Assolutamente. Il 21 è la disattivazione di tutte quante le notifiche dalle app. Quelle ci mettono ansia, ci mettono veramente un po' di pressione sul fatto di rispondere o vedere ho 10, 15, 20 notifiche, paf, devo rispondere assolutamente. Quindi non sono una bella cosa quel discorso di notifiche. Ultima cosa, 22esima, mettersi online solo quando serve, perché quando gli altri vedono che ti metti online cominciano a bombardarti. Quindi essere sempre invisibile online. 23esima ed ultima cosa è raccogliere tutte quante i bigliettini da visita su dei raccoglitori A4, i famosi quadernoni che mi avrete sentito nominare ormai migliaia di volte, con scritto la data e dove avete incontrato quella persona e perché avete incontrato quella persona. Li tenete lì e poi i quadernoni li archiviate in ordine di anno. Io ne faccio fuori uno all'anno circa e devo dire che vi serve perché poi insomma avete un po' la storia, la storia degli ultimi 20 anni di persone che ho incontrato. Così, molto semplice questo qua. Non è uno strumento di produttività ma è uno strumento che vi serve per vedere un po' il percorso che avete fatto. Grazie a tutti.